Quanta gente stasera, sono proprio contento. Ok, direi che possiamo iniziare. Allora intanto benvenuti a tutti, grazie di essere con noi anche questa sera per la nostra nuova lezioncina teorica dedicata al mondo del volo. Questa sera decolliamo o per meglio dire pianifichiamo il decollo. Infatti l'argomento di questa sera è proprio il briefing pre-volo. Allora vi condivido un attimo quello che sto. Briefing pre-volo e pianificazione di decollo. Questa sera parliamo di questo argomento che è un poso, addirittura un briefing pre-volo. Invece vedremo che è una cosa che comunque ha il suo senso, ha il suo significato e comunque va fatto in un certo modo. Allora, che cos'è intanto il briefing pre-volo? Il briefing pre-volo è il modo, leggiamo, con cui il pilota si fissa in mente le azioni fondamentali relative al decollo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che è il momento nel quale si ricapitola quello che è tutto il contorno del volo stesso relativo al decollo. Cioè il momento nel quale si decide che cosa si farà, quando lo si farà e si mettono i puntini sulle i a proposito di certi numeri e di certi valori che sono fondamentali per il volo. Vedete c'è scritto può essere più o meno formale, nel senso che non c'è un regolamento scritto che dice va fatto così, va fatto colà. Dipende soprattutto dal tipo di aereo, dal tipo di volo. Per esempio negli aerei di linea il briefing pre-volo è una vera e propria riunione che fanno il comandante, il primo ufficiale, l'ingegnere di volo se c'è qualche aereo ce l'ha, nel quale spesso si siedono proprio intorno al tavolo e decidono come sarà effettuato il volo quella mattina. Perché specialmente se si tratta di un volo in un aeroporto nuovo o delle condizioni particolari, quindi è proprio una vera e propria riunione. All'estremo opposto, se stiamo parlando di un aeroplanino WDS pilotato da un istruttore esperto che sono cento volte che decolla dallo stesso aeroporto, il briefing pre-volo in realtà è un momento in cui chiudo gli occhi e dico aspetta fammi fare a mente locale, devo ricordarmi questo, 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 quell'altro. Ok, me lo ricordo, sono a posto, possiamo andare. Quindi varia tantissimo diciamo come formalità, tra virgolette, come complessità, però è un momento nel quale il pilota si ripete e si fissa in testa questi concetti che sono fondamentali. Perché lo si fa? Lo si fa per evitare questo, il famoso freezing, cioè il panico sostanzialmente, ovvero se io perdo del tempo quando ho un'emergenza, quando ho una situazione di pericolo o una situazione anche soltanto in cui devo comunque reagire velocemente e dunque aspetta un po' che non mi ricordo, com'era questa cosa, che velocità era che dovevo tenere, che cosa dovevo fare, non me lo ricordo più. No, in quel momento lì perdo anche magari solo dei secondi, ma sono secondi preziosi che possono essere fondamentali e la religione del pilota, il mantra che ci si ripete in continuazione è sicurezza prima di tutto. Quindi si spende un pochettino di tempo per avere bene chiari in testa questi concetti in modo tale da poterli poi applicare immediatamente nel momento in cui servisse e fosse necessario agire rapidamente. Ok, quindi quali sono le cose delle quali mi devo preoccupare quando faccio questo briefing, sia esso appunto una vera e propria riunione, una vera e propria chiacchierata o un semplice momento mentale. Ci sono diversi punti, ne elenco un po', sono questi. Non tutti magari li esamino con la stessa attenzione o con la stessa concentrazione, magari appunto perché si tratta di cose che nella mia particolare circostanza, nel mio particolare volo conosco bene, ritengo da pilota responsabile di poter non approfondire, ma in generale questo è l'elenco delle condizioni che io devo avere chiaro sempre prima di decollare. Vediamole una alla volta in modo tale da farci una discussione sopra. Allora, la prima cosa di cui parliamo sono le caratteristiche della pista. Caratteristiche intendo le condizioni della pista, quelle fisse, quelle che non cambiano mai, che sono sostanzialmente queste. Ossia, ogni volta che decollo devo tenere conto dell'orientamento della pista, vale a dire come è emessa, quindi quale sono l'orientamento nord-sud-est-ovest, quindi in che direzione decollerò. Questo per tanti motivi, ovviamente per un discorso di vento, chiaramente, ma non solo, ci sono tanti fattori, per esempio in assenza di vento, perché scelgo un orientamento di pista piuttosto che un altro? Ci sono svariati motivi per cui posso farlo. La lunghezza della pista, naturalmente, è un elemento fondamentale di cui devo tenere conto, perché questo mi determina, tanto per cominciare, se riuscirò a decollare o no, ma poi anche come decollerò e che tipo di decollo dovrò fare. Il fondo della pista è una pista in erba, è una pista in asfalto, è una pista in cemento, ci sono tecniche di decollo e ci sono modi di decollare differenti a seconda del tipo di fondo che la pista ha. E poi gli ostacoli, dove per ostacoli non si intende il gatto nel mezzo della pista, si intende, non so, il fatto che ci sia una collina dopo al fondo della pista, quella è sempre lì, quindi devo sapere come gestirmela, oppure magari ci sono delle piante, magari ci sono delle condizioni particolari per cui subito dopo la pista comincia un tratto nel quale non posso volare, oppure devo comportarmi in un certo modo, quindi comunque ostacoli in generale, cose di cui devo tenere conto nel momento in cui pianificherò il mio decollo. Quindi queste sono le caratteristiche, diciamo, fisse della pista. Naturalmente questo va integrato dalle condizioni della pista, che invece possono cambiare di volta in volta, e sono sostanzialmente legate alle condizioni meteorologiche, non solo, per esempio, ha piovuto, quindi la pista è bagnata, ha gelato, quindi può esserci ghiaccio, è una pista in erba. L'erba com'è? L'hanno tagliata da poco, l'erba è più lunga, ci sono buche, è possibile che il fondo della pista magari sia in condizioni diverse dal tratto più vicino all'hangar, che magari è più battuto ed è migliore, quindi se per caso devo andare un pochettino più avanti, o devo staccare un po' più in là, com'è? Quindi devo tenere conto di questa cosa, motivo per il quale spesso e volentieri mi faccio una bella passeggiata, mi faccio il giro di tutta la pista, arrivando fino all'estremità, mi guardo com'è, ok, pianifichiamo anche questa, una delle cose che si controllano. Poi naturalmente le condizioni meteorologiche, dove per condizioni meteorologiche intendiamo tutte le caratteristiche, cioè non soltanto è bello, è brutto, sta piovendo, c'è il sole, ma soprattutto naturalmente il vento, che è il nostro amico nemico per qualunque pilota, perché il vento ci tira su e ci spinge giù a seconda di come è messo, quindi del vento dobbiamo sempre tenere conto, la nuvolosità per due motivi, primo perché guardare le nuvole ci dice come cambierà il tempo, e quindi adesso possiamo volare, ma fra mezz'ora potremmo farlo ancora? Guardare la nuvolosità ci dà un'indicazione di questo tipo, poi perché naturalmente con i regolamenti del volo VDS noi non possiamo volare nelle nuvole o in condizioni da non poter vedere il terreno, quindi anche questo è da tenere presente, perché magari ci sono le nuvole, ma noi andiamo dall'altra parte, quindi possiamo farlo, oppure no, quindi è una cosa da considerare, e poi ovviamente discorso di temperatura e pressione, perché questi influenzano i parametri dell'aereo, quindi dobbiamo sapere se abbiamo dell'aria più o meno fredda o dell'aria più o meno densa, perché questo ci cambia le carte in tavola per quanto riguarda, per esempio, le velocità che dobbiamo tenere o comunque il modo nel quale pianificheremo il nostro decoro. L'altro elemento fondamentale di cui dobbiamo tenere conto sono i nostri pesi, i pesi dell'aereo, dove, perché dico pesi e non peso, perché il peso dell'aereo è composto da vari fattori, il peso a vuoto dell'aereo, cioè la sua struttura, quello che si chiama in inglese zero weight, zero fuel weight, cioè il peso praticamente senza carburante, senza nessuno a bordo, e quello è un elemento, diciamo, fisso. Poi, naturalmente, devo tenere conto del mio peso e della persona che eventualmente porto con me, se sto portando dei bagagli, quanto pesa il carburante che sto imbarcando e che ho a bordo. Tutto questo, un proprio conto della serva, mi dà un peso totale del quale devo tenere conto per quanto riguarda la pianificazione del mio decollo, perché con areoplanini come quelli che utilizziamo noi, volare da soli o volare in due già fa una bella differenza, perché comunque si parla di svariate decine di chili in più o in meno. Allo stesso modo, partire con le ali piene è completamente diverso da partire con mezzo salbatoio, quindi anche quello è un elemento di cui tenere conto. Quindi, sapere e avere bene in testa, prima di decollare, che peso ho non vuole dire fare il conto al grammo. molto spesso non c'è bisogno di fare una pianificazione dettagliata fino al chilo, cioè, però, sapere se sono leggero o se sono pesante come minimo è fondamentale, perché questo mi cambia il modo in cui decollerò. Gli altri elementi che derivano da questo che abbiamo appena detto sono proprio i parametri di decollo, dove per parametri di decollo intendo le velocità caratteristiche che bisogna tenere. Cosa sono le velocità caratteristiche? La fondamentale, quella di cui abbiamo parlato anche parlando di anemometro, è la velocità di rotazione, cioè il momento nel quale io ruoto l'aereo per staccarmi da terra. ci sono altre velocità tipiche dell'aereo che devo tenere conto e che devo conoscere bene quando pianifico il decollo, specialmente considerando il discorso degli ostacoli, il discorso del diciamo del del modo in cui salirò. l'aereo l'aereo hanno due velocità tipiche per salire subito dopo il decollo, la velocità di salita ripida e la velocità di salita rapida che sembrano uguali ma sono completamente differenti a livello di concetto perché una è influenzata dalla potenza dell'aereo mentre l'altra è influenzata dalla trazione quindi dal modo in cui l'elica spinge se ho come vi dicevo un ostacolo davanti alla pista il mio obiettivo è quello di levarmi dall'ostacolo il più velocemente possibile nel senso di salire il più in fretta possibile prima di finirgli dentro e quindi salirò con un ratio di salita maggiore e una velocità rispetto al suolo più bassa e quindi terrò quella che si chiama vx cioè salita ripida che però non è la migliore velocità a cui posso salire se non ho ostacoli davanti e se posso permettermelo mi conviene salire in maniera più tranquilla quindi tenere un ratio di salita minore e tenere quella che si chiama velocità di salita rapida che è la vy che è quella che mi dà il massimo guadagno di quota nel minor tempo possibile se riesco a farlo questa velocità la vy è quella che senz'altro devo tenere perché perché mi porta fuori dai problemi nel minor tempo possibile come sapete quando abbiamo parlato di bilanciamento dell'energia un aereo con poca energia quindi che va piano e che è basso è in pericolo potenziale la mia il mio obiettivo è quello di guadagnare energia il più velocemente possibile quindi di portarmi in alto il più velocemente possibile questo perché mi permette poi di gestire qualunque tipo di emergenza qualunque tipo di problema mi può capitare più sono in alto e meglio è perché perché ho soldi da spendere ho energia potenziale che posso utilizzare per qualunque problema quindi più velocemente riesco ad andare su è meglio è però questo posso farlo solo se riesco a prendere abbastanza velocità è in topo prego dicevo se riesco a prendere abbastanza velocità da poter salire senza ostacoli se invece ho dei problemi o degli ostacoli davanti allora salgo più lentamente ma più diciamo nello spazio più breve possibile in modo appunto da schivare gli ostacoli tutti questi parametri del collo mi chiedono per esempio di sapere a che quote a che velocità dovrò togliere il carrello togliere i flap e sono elementi che devo avere ben chiaro prima di decollare non quando ormai sono lì scusa non mi ricordo a che velocità dovevo farlo no devo saperlo prima perché in questa maniera mi evito potenziali problemi dopo gli altri elementi che devo considerare sono la prima prua cioè una volta che ho staccato le ruote da terra e che sono sto decollando dove andrò cosa devo fare quindi dovrò sapere a che quota dovrò virare e in che direzione dovrò virare questo dipende sia da dove devo andare ovviamente ma anche proprio dalla gestione degli ostacoli quindi devo sapere se per esempio l'aeroporto la pista su cui mi trovo ha una procedura di partenza particolare allora gli aeroporti veri e propri quelli commerciali gli aeroporti grandi hanno quelle che si chiamano SID cioè standard instrumental departure cioè sono i modi standard di partire dagli aeroporti ma in realtà qualunque aeroportino anche la pista più piccola ha il suo modo di partire Camerana si sa che se decolli in un certo modo vai così se decolli dall'altra parte hai la collina davanti devi andare in un altro modo quindi sono tutte cose che chiedi e che devi avere chiaro nel momento in cui decolli e naturalmente devo sapere a che quota dovrò andare quindi quando dovrò livellare se si tratta di un volo lungo magari dovrò fare più livellamenti quindi portarmi da una quota all'altra con una serie successiva di livellamenti altrimenti per esempio se sto facendo un circuito o sto facendo un girocampo avrò una quota standard di circuito devo sapere qual è e quindi dovrò livellarmi a quella e devo saperlo prima non è che sto salendo e chiedo al mio istruttore scusa che quota dovevo livellare e quello mi risponde guarda che dovevi farlo 500 piedi più basso no devo saperlo prima e devo averlo chiaro in testa prima di decollare un'altra cosa da tenere presente sono le istruzioni al passeggero anche queste sono una cosa che magari non ci pensiamo ma bisogna farlo anche questo naturalmente siamo un passeggero se vogliamo in due chi è la persona che vola con me è un altro pilota perfetto allora facciamo veramente un briefing magari magari un pilota più esperto di me magari è un pilota meno esperto di me magari condividiamo delle idee magari lui conosce il posto meglio di me si parla facciamo una vera e propria chiacchierata come decolliamo da questo posto e ne parliamo magari io sono l'istruttore sto spiegando a un allievo perfetto e allora quale occasione migliore proprio per fare un vero e proprio briefing e dirgli benissimo raccontami tu cosa faresti in una situazione del genere e capiamo se hai capito di cosa stiamo parlando vediamo se hai le idee chiare oppure è semplicemente una persona che vola con noi ma che non ha mai volato che non sappiamo cosa fare anche a queste persone vanno comunque spiegate delle cose tipo come si sta a bordo cosa non bisogna fare cosa non bisogna schiacciare non andare con i piedi in fondo ai pedali non schiacciare quel bottone lì non tirare questo guarda fuori fai le foto mettiti le cinture ma anche queste sono cose che comunque dato che quando pilotiamo è nostra responsabilità civile e penale anche della persona che ci sta a fianco dobbiamo essere sicuri che questa persona sia istruita su quello che dobbiamo fare e infine dico infine perché ne parlo solo in modo molto molto veloce senza entrare nei dettagli naturalmente la procedura di emergenza cioè ok queste di cui abbiamo parlato adesso sono le cose di cui diciamo parleremmo sempre in qualunque circostanza e che vanno bene in tutti i decolli ma a questo punto il pilota deve dire perfetto incrociamo le dita tocchiamo qualunque ferro possibile immaginabile immaginiamo che ci sia un problema che cosa dobbiamo fare allora il pilota deve ricordare certe cose che ha studiato durante il suo corso di addestramento allora procedure di emergenza ce ne sono tantissime e ci sono modi di affrontare qualunque tipo di emergenza gli incendi le piantate motore tutto quello che vi viene in mente un pilota deve sapere come affrontarlo quello di cui voglio parlarvi solo velocissimo è il discorso del punto di pista di VR cioè abbiamo detto che VR è la velocità nella quale ruotiamo perfetto ma quando sto decollando difficilmente tengo gli occhi sull'anemometro per vedere VR sì guardo dov'è la lancetta naturalmente ma guardo fuori l'idea è che guardo verso il fondo pista e cerco di avere un quella che chiamano special awareness in inglese cioè una condizione di conoscenza del mio ambiente più elevata quindi quello che mi interessa non è tanto la velocità esatta ma il momento in cui raggiungerò quella velocità un pilota deve farsi due calcoli mentali e dire dunque io conosco il mio aereo so che staccherò più o meno in quel punto e avere un'idea sulla sua pista di dire circa sarò lì e questo lo sai con l'esperienza con i calcoli che ti sei fatto prima ovviamente l'aereo leggero stacca prima l'aereo pesante stacca dopo ma tu dici più o meno io staccherò in quel punto perfetto allora in base al punto in cui ho l'idea di staccare devo fare una serie di calcoli mentali del tipo ok mi posso fermare in sicurezza prima o dopo cioè se ho un problema prima del punto di stacco ho abbastanza pista per abortire il decollo mettere le manette al minimo fermarmi non ce l'ho la corsa di accelerazione la pista ne ho abbastanza non ne ho abbastanza se mi succede una cosa un problema subito prima della rotazione o subito dopo devo fermarmi devo continuare a salire portarmi il problema in volo e gestirmelo lì e queste sono tutte cose che dipendono dal momento in cui io staccherò le ruote da terra quindi avere l'idea del punto in cui lo farò è fondamentale poi naturalmente se il problema mi capita quando sono già in aria allora lì si discute se quando succede se succede quando sono già sufficientemente in alto quindi sopra la quota minima di sicurezza l'emergenza si affronta in un certo modo allora posso pensare eventualmente se devo tornare indietro se devo cercare un punto in cui scendere davanti a me quella è un altro una cosa diciamo molto più avanzata della quale non parliamo stasera se il problema accade sotto la quota minima di sicurezza quindi quando sono decollato da pochi istanti allora va affrontata in un altro modo e io devo avere ben chiare queste condizioni quindi sapere se mi succede un problema quando mi è successo nell'istante in cui mi sta succedendo devo capire ma subito in quel momento lì che cosa farò non è che dico aspetta mi si sta fermando il motore cos'è che dovevo fare no e questa quindi è una delle cose che il pilota si ripassa mentalmente prima di ogni decollo perché è naturalmente fondamentale perché come vi dicevo sicurezza sempre prima di tutto bene direi che siamo più o meno arrivati in fondo alla nostra chiacchierata come sempre c'è qualche istante per le domande se qualcuno ha qualcosa da chiedervi se non ci sono domande vi ringrazio della chiacchierata grazie di essere stati con noi anche questa sera ci sentiamo presto prendo l'occasione per augurare buone festività a tutti quanti e riprenderemo le nostre le nostre chiacchierate dopo il periodo festivo quindi eccoci qua buona serata a tutti e ancora grazie di essere stati con noi ciao grazie Giorgio ciao a tutti ciao 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 grazie buona sera ciao 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 ciao